Ma sarebbe una cosa stupenda, un posto tutto nostro, la nostra casa. Oh, e potremmo avere anche dei fiori? Certamente, anche le farfalle. E un dolce ruscello colgogliante? E riservatezza. Oh, cos'è riservatezza? Vuol dire sentire solo la puzza dei piedi che vuoi tu. Wow. Hip Amber Cruz, pensi di voler vivere il tuo domani con me? Beh, io direi capolavoro, capolavoro. Ma sei stata bravissima. Dai, io siamo una squadra fortissima, raga.